Ragazze, oggi si va a Gardalan! Presto però vi dovete mettere l'abbigliamento adatto per l'occorrenza perché a Gardalan è tutto pronto per Halloween! Pronti per andarci a divertire? Sì! Gardalan, stiamo arrivando! Siamo arrivando! Ma mica avete paura di incontrare tutti i posti che ci sono a Gardalan? Guardate che ho guardato! Wow! Sapete che lì sono tutti travestiti da paura? Ma io sono lo zombie! Scusate, sono lo zombie! Eccoci arrivati a Gardalan! Esatto, è tutto a tema Halloweenoso! E' certo! Guardate qui! Vabbè! Io volo! Ludo, ma dove vai? Ludo, venga! Ok, adesso prima di tutto dobbiamo andare a pranzare perché tengo un leggero con l'anguorino! Prima tappa andiamo a pranzare perché è orario di pranzo ormai! Esatto! Sono le quattordici! Ragazzi, pensate che se io mi guardo allo specchio ho paura! Perché ragazzi, poi andiamo a giocare! E abbiamo anche appuntamento con dei nostri amici! Tanti e leone! Sì, che tra poco vi presenteremo! Esatto, ragazzi! Che sono già a mangiare! Ragazzi, io e Sofì abbiamo deciso che faremo l'oblivion! Eh, avviati da sola perché ho paura! Noi zumbi non ha paura! Ludo, io e te cosa facciamo? Le barchette veloci? Sì, quello è... Le barchette volanti! Eccoci qui! Arrivati all'ingresso! Ragazzi, oggi devo fare lo Jumanji! Devo! Andiamo! C'è molto divertimento oggi! Ludo, sei carica? Yes! Sei carica? Yes! La gente mi guarda male! Eh no, ragazzi, sono finti, non sapete! Oh, ma bellissimo! Guardate, ragazzi! Auguri, auguri! Auguri, guarda lei! Di Halloween! Esatto! Auguri! Eh? Il ventesimo anno di Halloween! Ah, di Halloween! Ho capito di casa! Scusate, scusate! Di Halloween, di Halloween! Ehi, ragazzi! Avete già preso il nostro libro? Aurare il tuo picco e porta ed è tanto sospeso? Se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente! Ve lo ludo? Perché noi ci vediamo il 19 novembre a Milano, nel megastore della Mondadori, in piazza Duomo, alle ore 15.30, per firmare tutte le vostre copie del nostro libro e incontrarvi... Tutti i libri! Wow! 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 Ma fermi, fermi! Ma di quanto qui ci sono i ragni? Questa volta ci sono solo le zucche! Wow! Wow! Ragazzi! Perché ogni anno addobano in maniera diversa, eh! Esatto! Ludo, oggi dobbiamo fare lo ciubanchi! Lo ciubanchi! Non è che ho fatto, ma io no! Lo devo fare! Andiamo! Dai, ragazzi! Guardate! Prezzemolo! Wow! Prezzemolino! Eccoci qua, arrivati all'ingresso! Oh, anzi, oh, anzi! Date il vostro abbonamento e entriamo, dai! Ok! Tieni, papà Pino! Papino, è un abbonamentino! Oh, un po' carino! Stiamo per cadere! Guarda! Wow! Guardate qui! Si festeggia il ventesimo anno di Halloween a Gardala! Esatto! Dai, dai, dai! Vissù! Fotina prima! Vai, Ludo! Foto, Ludo! Foto, Vini! Foto! E a me! Ecco, Sofì! Ciao! Ok, adesso... Ciao, Sofì! Come va? Pronte? Cariche per andare sulle giostre adrenaliniche? Vai, Sofì! Vai, Sofì! E qui c'è Leone! Ciao, Leo! Dov'è Tommy? Dov'è Tommy? Ciao, Tommy! Amore! Come fai? Sei carico? Sei pronto? Andiamo, dai! No, no, no! è arrivato il momento di pranzare cosa vuol mangiare va bene allora ragazze prendete posto dove ti siedi tu? qua vicino mamma dove andiamo dopo ragazze state decidendo la prossima giostra anzi la prima giostra quindi come prima giostra con un panda è arrivata la tua pizza? si è arrivata e sto mangiando ragazzi Ludo lo sei preso tu? coca e cosalette e patatine ecco qui Ludo è arrivato anche per te come sono queste patatine? buone? che buone Ludo la forchetta non c'è? non si usa la forchetta? ragazze siete cariche per andare sulla prima giostra? no perchè abbiamo mangiato no perchè abbiamo mangiato abbiamo mangiato l'acqua di gioia si mi sa che le patatine ci sono rimaste aiuto chi è? no vabbè io non potrei mai andarci lì sopra ma manco a pagamento ecco Lulu ciao Ludo è la bambina che va agli angeli di Fusofia guarda quante cose ci sono io ho già tutto grazie per le informazioni ma io ho già tutto guarda Uri guarda qui che belle quelle maschere no non mi piacciono quelle maschere fammi vedere mettiti quella maschera lì no quella 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 della Befana lì no questa questa no mamma no guarda che bella fammi vedere come ti sta no no dai fammi vedere mettila bene vediamo no basta dai beh non c'è tanta differenza eh no basta no adesso mi hai offeso adesso mi hai offeso protective of my armature che bella è lì vediamo 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 come ti sta oh dio no 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 non l'abbiamo visto fammi vedere non mi interessa sono ieri ma mi interessa sono ieri fammi vedere beh sei carina dai con te non ci vado con te non ci vado Ludo come va lì su? bene andiamo? andiamo dai ancora non abbiamo fatto neanche una giotta ci muoviamo? vogliamo andare ciao 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 bellissime andiamo voglio fare la giosta nuova la voglio fare tu ancora non l'hai fatta no e appunto la voglio fare basta la voglio fare o la faccio adesso o la faccio il 31 che è halloween no la facciamo adesso adesso esatto se no c'è fila la facciamo adesso quella con la mano con la mano ok dobbiamo saltare la coda dobbiamo saltare la coda sì andiamo a fare la fila non riesco no io io me ne vado andiamo dai facciamo la fila per le tasse andiamo Ludo Ludo facciamo la foto ludo sei pronta per salirci su? voi mettete la cento voi siete pronti ragazzi? siete pronti? dovete girare questo vediamo chiudete chiudete vai si deve girare se ne è io mi so sto chiedendo siete pronti? ok 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 ragazzi vai 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 oh madonna oh madonna ho paura aiuto piano 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 non devo urlare Non devo urlare, non devo urlare Vai, 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 vai Cira, Luda, cira Luda Luda Luda, cira Luda 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 Aiutaci a girare Luda 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 Aiutat Luda 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 Andate Andate Barchetta Sì, barchetta Luda 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 o oh o 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 mamma mia aiuto ma è vero o è finto? vediamo vediamo se da segni di vita o o vuoi un palloncino? no no grazie mamma mia 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 mamma ma mamma qual è la foto? she le pone la faccia ha ciao bellissime è che da più una mano prima guarda guarda qua ah non l'avete ancora attraversata raggiù in mezzo nascondetevi qua dietro ragazze se non attraversate questa zona non possiamo uscire ragazzi dobbiamo riuscire ad uscire fuori da questa zona prima che arriva qualche altro zombie ragazze lui si chiama Vito e lui è qua ciao aiuta aspettami vieni qua sopì si 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 allora challenge sopì allora challenge per sopita non mi hai preso qui in esso tu non mi hai preso 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 mi vuoi prendere non mi hai preso adesso c'è la legge di andare vicino a quella ragazze dobbiamo uscire da qui altrimenti gli zombie arrivano sempre questa è la zona degli zombie dobbiamo uscire faccia attraversiamo dai stai avanti tu stai avanti tu stai avanti su passa di lato forza forza stiamo uscendo lì è l'uscita no 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 vieni allora adesso arrivo venite io sto qui finchè non vengono non ho più paura sai non hai più paura sei sicura non ho più paura ragazze qui mi sa che è meglio andare no devono venire qua avanti ai miei occhi no no vieni qua io adesso vado perchè mi voglio prendere il ciurro si andiamo a mangiare dai ragazze devi venire qua se vai più avanti dopo dobbiamo attraversare di nuovo tutta la zona no non ti preoccupare non so se ti conviene non ti preoccupa tu vuoi andare guardino dai non c'è nessuno andiamo andiamo non sono venuta hanno paura di me allora corri hanno paura vedo paura i piccolini che gusto auri? menta e coca grazie andiamo a vedere Ludo che vuole lo zucchero filato dai molte di queste siete pronti per assaporarlo? no 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 prima la signorina prima il signore Ludo dopo li abbrustoliamo i marshmallow che escono sotto li abbrustoliamo qui ragazzi si cosa fai Ludo stai mangiando lo zucchero filato li abbiamo già mangiati l'anno scorso sono uguali di sapore scotta soffia andiamo a cercare qualcosa alla Nutella per Auri tu hai mangiato lo zucchero filato Aurora invece vuole qualcosa alla Nutella che vuoi prendere Auri? Waffer Waffer io scendo ciao buongiorno ciao ragazze io direi di andare a casa perché sono stanca morta e non ce la faccio più tu non sei stanca Ludo stanno arrivando di nuovo gli zombie eccoli qua eccoli qua aiuto posso andare io? no io qua il 31 non ci vengo te lo dico si guarda che ci dobbiamo ritornare porto un'arma porto questa il 21 ottobre dobbiamo essere qui tu sei matta tu sei matta anche io la mangiare come facciamo il piano eeeh anche io la mangiare le noccioline wow che buono grazie un altro come lo vuoi tu Ludo? bianco grazie ciao grazie mille mantenilo bene che buoni Ludo ma quante cose stai mangiando Ludo? dove mangia? molto buono buono? ma sono sporca? attenti che vi cola tutta la cioccolata addosso grazie ciao grazie a voi eccoci qua vai qui oggi ci sono tante unicornine ma no ciao piccoline ciao 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 bellissime i mosti non si possono avvicinarne perchè c'ho l'uafa tu dici? si anche perchè sennò lì bacchetto eh no no grazie ciao 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 è un po' inquietante il ritorno tutto spento bello 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 e questi alberi qui che muovono gli occhi come la mettiamo? guarda che carini che siete carini 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 guarda si che le muovono hai visto? guardate qui guardate qui che meraviglia la casa tutta buia ecco è bellissima mamma hai visto che si? eh si non ricordiamo queste cose però adesso c'è un sacco di gente meno tale ragazze che ne dite di fare 24 ore nella casa di prezzemolo di notte? no grazie non ci tengo unicornini scriveteci giù nei commenti nella community se volete che Auro e Ludovica facciano questa challenge andiamo ma che bello? qui il trentuno non ci vengo ma cosa mi fai? però quanto bello è il clima che si respira qui ad Halloween bellissimo ma ragazzi c'era poi il tuo che ha detto a Sofia io voglio un palloncino che poi queste persone qua che poi sono travestite vanno dalle persone che hanno paura come non detto perché poi si è fiondato su di te appena ti ha vista mamma mia così lo vuoi un palloncino? ma chi lo vuole il palloncino? ma ti do il palloncino e se li incontrassimo anche adesso no mamma no rientrando mamma no mamma no mamma no speriamo di no no mamma no io ho l'arma anche perché Ludo ha il terrore eh? mamma 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 vuoi il mio mantello? oh oh dov'è il mantello? no mamma no mamma no io 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 ce l'avevo però poi quando ho trovato la zombie non ce l'avevo non è che la zombie me l'ha preso? eh buttarsi senti io va bene dai adesso salutiamo vabbè ragazzi il video finisce qui ne vi salutiamo speriamo che questo video pauroso vi sia piaciuto e madame gigetta vabbè ragazzi diavoletta vabbè ragazzi iscrivetevi attivate la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni in su fatelo eh ciao ciao e adesso andiamo via prima che arrivi qualche altro zombie presto cioccoli 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 Grazie a tutti.